Una brutta giornata, chiuso in casa a pensare, una vita sprecata, non c'è niente da fare, non c'è via di scampo, boh, quasi quasi mi faccio uno shampoo, uno shampoo, una strana giornata, non si muove una foglia, ho la testa ovattata, non è neanche una voglia, non c'è via di scampo, sì, devo farmi per forza uno shampoo, uno shampoo, sì, uno shampoo. Scende l'acqua, scroscia l'acqua, calda, fredda, calda, giusta, shampoo, rosso e giallo, quale marca mi va meglio? La mamma, che ti accarezza la testa quando sei triste e stanco, una mamma enorme, una mamma in bianco, Sciacqua, 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 seconda passata. Sono convinto che sia meglio quello giallo senza canfora, i migliori sono più cari perché sono anti-forfora. La schiuma è una cosa sacra, è una cascata di latte che assopisce questa smania tipica italiana, è una cosa sacra. Come una vacca indiana. Acqua, sciacqua, sciacqua. Fon.